In un anno il deficit PIL dell'Irlanda crolla di 18 punti. Il salvataggio è riuscito? Ecco i numeri del miracolo. La Spagna ha registrato un rapporto deficit PIL pari all'8,5% contro il 9,3% del 2010. In Grecia il deficit è sceso dal 10,3 al 9,1%, mentre in Irlanda dal 31,2 al 13,1%, un risultato impressionante che conferma Dublino al primo posto nella classifica dei paesi dell'Eurozona con maggior disavanzo nel 2011. L'Irlanda si conferma quindi il paese mezzo meglio tra tutti gli stati assistiti. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, a seconda di che ora guardate la nostra trasmissione sui canali tradizionali. Dicevo in un mare di notizie negative ne abbiamo scelta una positiva per inquadrare la nostra giornata, per inquadrare il momento e per parlare di quello che sta succedendo sui mercati finanziari e di come poi i risparmiatori dovrebbero trovare le giuste risposte in considerazione di quanto accade. Di questo e di tanto altro parleremo con Achille Perego, grazie per essere tornato con noi, caporedattore di QN del giorno. Abbiamo un graditissimo ritorno, quello del dottor Grioli, direttore generale della Zucchetti S.p.A., grazie anche a lei per essere tornato con noi. In collegamento abbiamo un altro amico che è Gianfranco Fabi, giornalista del Sole 24 Ore. Gianfranco, grazie per essere con noi anche a te, seppur in collegamento via Skype. Grazie mille, buongiorno e buonasera. Come vive l'impresa, l'imprenditore in questo momento? Lei ha la fortuna o la capacità insieme alla sua impresa di vivere in un'azienda che funziona e che cresce? Lei mi diceva prima, mentre discutevamo qualche secondo prima di entrare in trasmissione sotto le telecamere, che la sua è un'azienda a Florida che sta crescendo, ha aumentato anche la clientela in questi anni, a dimostrazione che chi sa lavorare, lavora anche nei momenti di difficoltà, anzi rischia di aumentare, rischia in senso positivo. Però, come si vive in questo momento di disagio generale? La Zucchetti è un'azienda di tecnologia e la tecnologia ha alcuni suoi contenuti, alcuni suoi cromosomi di business anticiclico, nel senso che investe in tecnologia. chi proprio in un momento di difficoltà vuole attraverso la tecnologia migliorare la propria efficienza. E quindi diciamo che noi cresciamo pur ovviamente controllando miglio dopo miglio la nostra navigazione, pur disponendo di radar imprenditoriali sofisticati, utilizziamo ancora delle vedette che sono i nostri esperti del mercato. E dicevo, noi cresciamo, assumiamo fondamentalmente perché siamo il partner tecnologico di aziende che, avendo capito che io, usando un linguaggio, se volete, un po' bizzarro, dico sempre, da un tunnel dell'autostrada, Sani si esce solo davanti, avendo capito che la via d'uscita è davanti, vogliono investire. Diciamo, noi cavalchiamo anche un aspetto fondamentale del mondo dell'innovazione, della tecnologia, dell'informatica, che per anni è stato trascurato nella nostra industria. Tutta la nostra industria è stata costruita negli anni 50, 60, 70, sul concetto della pain, della pena, del problema. L'industria quindi andava da una società e diceva, tu hai un problema e io con le mie tecnologie ti aiuto a risolvere questo problema. Oggi, per fortuna di tutti, il mercato è più evoluto, il cliente è più evoluto e ci mancherebbe altro che il cliente desse alle imprese dei denari senza risolvere i propri problemi. Oggi non si ragiona più sul problema, si lavora su quello che, ovviamente, risolto i problemi, diventa il fattore di successo, il fattore di competitività. La tecnologia, i nostri prodotti, aiutano l'imprenditore e a concentrarsi, in sostanza, quei pochi o tanti che siano investimenti che può fare sui punti di eccellenza. Quanto è importante diversificare anche per l'impresa, per l'imprenditore? Voi quanto lo fate? Non è mai abbastanza importante, lo deve essere sempre di più. Noi viviamo di diversificazione, noi ci occupiamo di efficienza aziendale attraverso sistemi di controllo, sistemi informatici, però ormai da anni abbiamo lanciato tutta una serie di nuovi business, ci occupiamo di sicurezza, di automazione, ci occupiamo di sicurezza sul lavoro, abbiamo un centinaio di stadi di cui gestiamo tutti i sistemi di accesso e di controllo, facciamo anche delle cose particolari, produciamo un robot tagliaerba che vendiamo in 28 mila pezzi in tutto il mondo, abbiamo aziende di robotica, di domotica, abbiamo sistemi automatici. La dimostrazione che il core business si allarga sempre di più? Sì, io ovviamente cerco di semplificare la ricetta, la ricetta in realtà non è semplice, però la cosa fondamentale è cercare non solo di avere il miglior prodotto, ma di capire anche quello che è il posizionamento del prodotto, quelle che sono le esigenze del consumatore. Voglio utilizzare un esempio, l'altro giorno era un importantissimo convegno di una grande associazione di categoria che raggruppa centinaia di migliaia di piccole imprese e accanto a me c'era il direttore generale di una grande azienda telefonica. Ebbene, questo signore davanti a una platea di 700 persone, a un certo punto per dimostrare l'idea che oggi l'innovazione viene dal mondo del consumer e dal mondo del consumer passa all'impresa, cosa che in parte è vera ma non lo è del tutto, davanti a questa platea ha detto quanti di voi per esempio hanno un iPhone? Immaginandosi una risposta plebiscitaria. In realtà quelli erano imprenditori e cinque o sei mani tristissime nel buio si sono alzate mettendo anche in imbarazzo lo speaker. Io gli ho detto, vedi, non hai detto una sciocchezza perché hai parlato dell'iPhone che è sicuramente un prodotto di grandissimo successo. Hai solamente sbagliato il target. Se tu questa sera eravamo a Riccione, te ne vai alle tre di notte al Cocoricò che è la discoteca più famosa della riviera e fai la stessa domanda, alzano tutti la mano. Quindi la chiave del successo non è quella di avere necessariamente solo il miglior prodotto ma è quella anche di raggiungere il giusto mercato. Questa è una storia vera, accaduta, che dimostra quanto la nostra eccellenza abbia poi bisogno di processi, di metodi, di aziende che in realtà fanno l'ultimo miglio che spesso è il più difficile, quello di calare la tecnologia sulle esigenze del singolo imprenditore. E bisogna farlo per grandi volumi di singoli imprenditori ma in modo tale che per decine di miliardi di clienti, noi ne abbiamo 85.000, ci sia in realtà una gestione come se l'azienda Zucchetti avesse un solo cliente. Bisogna far sentire ciascuno il e non uno dei. GRIOLI, la vedevo asserire e confermare quello che diceva Perego oltre a quello che diceva Fabio. Il suo pensiero in conclusione su questo aspetto? Vorrei che il mio pensiero non fosse uno slogan. Io credo che lavorando sull'utente, sulle esigenze, sull'azienda, sulla differenza, sul valore si possa non solamente uscire da un momento difficilissimo come è quello attuale ma esprimere tutta quella capacità di successo che il nostro paese ha dimostrato in mille occasioni. Un'intervista ad un skipper dell'America's Cup, corsa a Napoli, diceva bellissima ma qui c'è stata una differenza, la riva, Napoli. Noi siamo un paese fatto di rive, fatto di differenze, fatto di valore. È questione di serrare i ranghi, di stringere i denti e di andare avanti. Ringrazio il professor Grioli, spero di avervi ancora tutti qui perché è stato un piacere. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Buona serata.